scat man's world ragazzi che due palle era veramente indescrivibile problemi di server paurosi adesso guarda giochiamo cazzo speriamo bene proviamo sta città privata ragazzi non ho mai giocato sto tentando la strada verso la figura di merda ok doge veneziano vai vediamo cosa combina il comandone ho visto dopo due cose in velocità però questo problemi di server veramente è impossibile ok 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 allora intanto dobbiamo collegare ok fondazione città bene buono buono uno e due ok allora abitazioni ok tanto è gratis teoricamente buono diciamo di non fare boccagate mondiali allora a questo ci siamo zona industriale ok ok quindi no porca puttana ok facciamo quella qua zona industriale ok ok perfetto buono buono zone commerciali le commerciali le cazziamo eh ok allora vai di stradine qua di qua di qua chiudi e chiudi perfetto commerciali no commerciali ok Dopo Acqua Corri Cazzo arrivano solo fino a qua Un paccone Devo farne una Anche qua Troppo lontano Ho fatto le cose Già primo errore Ok E una anche Dico Ok Ok Bene Siamo già a 10.000 Eravamo più schei Bene mi fa molto piacere Eeeh vediamo Elettricità La cazziamo Mamma cazzarla qua Manca rotta in vista Io ti ho servizio aumenta le tasse Merda Sono in rosso Cazzo Cioè sto Sono in perdita Quando il lavoratore arriverà Voi arrivano Ok Siamo in perdita Siamo già in perdita Che bello Allora Gli stami Ci guardiamo Classifiche Sfide Oh Obiettivi Ok Ma non apre Sta stronza Cosa c'è qua Cosa c'è qua Con un comune Noi ci sono stati servizi Ok Si penserà al comune Fornisce energia Alla città Allora Il comune Non ha provato Perché? Eeeh Devo tanto imparare Ragazzi Qua Sono proprio una pippa Fioi Grazie al comune Mappa felicità Ok Mappa popolazione Lavoratori Ok Perfetto Qua ancora non lavora nessuno Porca puttanona Oh dai che comincia Perfetto Allora Energia alla città Buono 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 Però per me Si incazzano ancora Bello Complicato Però mi piace Mi piace Ok Comune Ok 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 Buono Buono bene, ah cazzo, che coglionazzo allora la regione è Venezia città cumenda cumenda land no, cumenda land mi farà cagare che cazzo di città mettiamo no, non posso farmi solo la città new venice non so che cazzo scrivere ragazzi scusate ma ok mi cortino va bene qua abbiamo le entrate tasse 9% va bene, ho capito, non sono un po' coglione va bene, ciao, 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 ciao dai, basta, ho capito ma ci stiamo sviluppando bene insomma, 312 336 persone abbiamo locali ovviamente buono speriamo che non odio connessione disconnessa oh madonna no, speriamo bene questa acqua è deliziosa bene, bene, bene acqua, acqua cosa cazzo è questo ah ok, il tubo di scarico va bene smaltimento rifiuti 9000 incendi ok, vabbè adesso dobbiamo andare un po' su cui soli, prezzo perché sito per le grandi opere le altre città sono qua ok andiamo avanti un po' veloci anzi scusate se non sono molto brillante nel commento ma sto cercando di capire un po' il tutto mi sta piacendo questo gioco veramente perché è un po' complicato perché non ce l'ho neanche mai giocato però sembra fatto bene a livello proprio gestionale mi piace sì, la rete va vai, viene ogni 3 secondi però vabbè questi sono piccoli dettagli non vedo l'ora di fare il video con il buon Edward di cominciare la nostra campagna c'è la speranza che i server insomma i server devono non prendere le palle perché sennò so cazzi costruiamo tutto vai tanto è gratis ok perfetto zone residenziali ok ah li ho ordini bosch dai che dobbiamo salire fiolli dobbiamo salire che cazzo andiamo un po' da vicino che figata ok c'è un po' di traffico aspetta un attimo cazzo mi dice allora felicità sono felici tutti felici tutti contenti e vai 968 guadagno buono tutti sono contenti il guadagno non è stato dominato la scena 468 popolazione con la connessione vai e viene ogni secondo e un po' avanti veloci questo chiaramente ragazzi ricordo un gameplay di prova un po' avanti di rinno fiolli 1016 bene vai che sta diventando ricco la città fa un po' cagare vista così però oh dai un uomano forse è uscito trasporti vediamo un attimo autobus come cazzo si fa ho capito ma è giusto così speriamo non sto capendo sinceramente andiamo un po' più piano perché se no veramente non capisco un cazzo piazza eh mand ok devo fare la pulizia penso vediamo questa è una clinica 30.000 come cazzo fa se no non lo farò mai eh non c'è la foro non c'è la foro non c'ho i soldi qua volevo fare la volevo fare anche i trasporti ma il problema è che non ho ancora i soldi necessari il traffico è veramente insopportabile guarda che roba va buono ragazzi qua tram quanto costa 30.000 la stazione di polizia 30.000 andiamo a provare potrei creare delle strade alternative ok ora quanto costano le strade porca ma buono ragazzi dai questo gameplay di prova dai terminiamolo qua perché chiaramente non ho ancora capito tutte le dinamiche del gioco non voglio annoiare troppo purtroppo non esco commentare bene perché ho cercato di capire il gioco però insomma secondo me una volta che capisco bene tutto posso venire fuori veramente dei bei video belli cazzuti ci divertiamo alla grandissima ragazzi un saluto del comandone ciao